non restava quindi altro da fare che accamparsi per passare la notte lì dove stavano non osarono nemmeno cercare qualche avanzo di cibo sul terreno per paura di separarsi di nuovo ma non erano rimasti a giacere a lungo e bilbo stava cominciando ad appisolarsi quando dory cui toccava il primo turno di guardia disse in un forte bisbiglio le luci stanno apparendo di nuovo laggiù e sono più numerose di prima saltarono su tutti non c'era dubbio poco lontano da lì palpitavano dozzine di luccichi e si udivano distintamente voci in risa allora cominciarono a strisciare lentamente verso di esse in file indiano ciascuno toccando la schiena di chi gli stava davanti quando si furono avvicinati abbastanza torino disse stavolta niente mosse avventate nessuno esca allo scoperto fino a che non lo dico io prima manderemo avanti il signor beckins da solo per parlare con loro non avranno paura di lui e io di loro pensò bilbo e comunque speriamo che non gli facciano del male quando arrivarono sul limitare del cerchio diedero un'improvvisa spinta a bilbo e questi prima di avere il tempo di infilarsi l'anello capitombolò avanti nel pieno del chiarore del fuoco tutto inutile le luci si spensero di nuovo e ricadde il buio più assoluto se prima era stato difficile radunarsi questa volta fu anche peggio e non riuscirono in nessun modo a trovare lo hobbit ogni volta che si contavano facevano solo tredici urlavano e chiamavano bilbo beckins hobbit hobbit della valora ehi che il cielo ti strafulmini dove sei e altre cose di questo tipo ma senza mai avere risposta stavano per abbandonare ogni speranza quando dory inciampò su di lui per pura fortuna nel buio cadde sopra quello che da prima gli parve un ceppo che invece era lo hobbit ci vollero un po di scosse per svegliarlo e quando fu sveglio non ne fu affatto contento stavo facendo un sogno così bello brontolò sognavo di fare una cena assolutamente favorosa ah gran cielo adesso fa anche lui come bombur dissero i nani non starci a raccontare i tuoi sogni per carità le cene di sogno non servono a niente se non possiamo prendervi parte sono le migliori che possa procurarmi in questo postaccio borbottò lui stando disteso accanto ai nani e cercando di riaddormentarsi per ritrovare il suo sogno quelle però non furono le ultime luci che apparvero nella foresta più tardi quando la notte era ormai inoltrata chili che stava facendo il suo turno di guardia venne a svegliarli tutti di nuovo dicendo ehi c'è un luccichio costante non lontano da qui centinaia di torce e molti fuochi devono essersi accesi d'un tratto per magia e sentite che canti d'arpe dopo essere rimasti distesi ad ascoltare per un po scoprirono che non potevano resistere al desiderio di avvicinarsi e cercare ancora una volta e di ottenere aiuto si rialzarono e questa volta il risultato fu disastroso il banchetto che videro era più sontuoso e magnifico del precedente e a un'estremità di una lunga fila di commensali sedeva un re dei boschi con una corona di foglie sui capelli d'oro molto simile alla figura del sogno che bombur aveva descritto tutti quegli elfi si passavano a vicenda delle scodelle sopra i fuochi e alcuni suonavano l'arpa mentre molti altri cantavano la loro chioma lucente era intrecciata di fiori gemme verdi e bianche splendevano sui loro collari e sulle loro cinture e la gioia emanata dai loro volti e dai loro canti sonori nitidi e belli erano i canti degli elfi e Thorin avanzò in mezzo a loro le parole si interruppero in un silenzio mortale tutte le luci si spensero i fuochi svanirono in un fumo nero ceneri e braci schizzarono addosso ai nani e il bosco fu di nuovo pieno del loro strepito bilbo si trovò a correre in tondo a perdifiato o così perlomeno credeva senza smettere di gridare dori nori ori oingloin filichili bombur bifur bofur dualin balin Thorin scudo di quercia mentre intorno a lui figure che non riusciva a vedere né toccare facevano lo stesso con un bilbo inserito di tanto e tanto ma le grida degli altri si fecero via via più lontane e fiocche e sebbene dopo un po gli sembrassero mutate in urla implorazioni d'aiuto in lontananza alla fine tutto il rumore cessò di colpo ed egli rimase solo nel silenzio del buio più completo quello fu uno dei suoi momenti più terribili ben presto però bilbo giunse alla conclusione che non serviva a niente cercare di fare qualcosa finché il giorno non fosse giunto a portare un po di luce e che era del tutto inutile andare in giro alla cieca stancandosi a morte senza alcuna speranza di fare una buona colazione che lo ritemprasse così si sedette con la schiena contro un albero e ancora una volta si ritrovò a pensare al suo buco hobbit così lontano con le sue belle dispense era profondamente immerso in pensieri che riguardavano pane burro marmellata e caffellatte quando sentì che qualcosa lo stava toccando qualcosa di simile a una fibra lunga e robusta poggiava contro la sua mano sinistra e quando bilbo cercò di muoversi scoprì che le sue gambe erano già state avvolte dalla stessa roba tanto che appena si alzò ricadde a terra allora il gran ragno che si era dato da fare a legarlo mentre lui sonnecchiava gli spuntò alle spalle e si precipitò su di lui bilbo riusciva a vederne solo gli occhi mentre quella cosa orribile cercava di avvolgere i suoi fili abominevoli intorno a lui era stata una bella fortuna che si fosse risvegliato in tempo presto non sarebbe più stato in grado di muoversi affatto in quelle condizioni dovette sostenere una battaglia tremenda prima di riuscire a liberarsi colpì il ragno con le mani stava cercando di avvelenarlo per tenerlo quieto come fanno i ragni più piccoli con le mosche poi si ricordò della spada e la sguainò allora il ragno fece un balzo indietro e bilbo ebbe il tempo di tagliare i fili che gli bloccavano le gambe a quel punto fu il suo turno di attaccare evidentemente il ragno non era abituato a cose che portassero al fianco pungiglioni come quello altrimenti si sarebbe affrettato ad andarsene ma bilbo lo attaccò prima che potesse sparire e gli immerse la spada fra gli occhi come impazzito il ragno sobbalsò essi di meno e agitò orribilmente le zampe fino a che bilbo non lo uccise con un altro colpo per poi lasciarsi cadere a terra dove rimase a lungo privo di sensi quando riebbe intorno a lui c'era una luce fioca e grigia che di giorno era consueta nella foresta il ragno giaceva morto lì accanto e la lama della spada era macchiata di nero l'avere ucciso il ragno gigante da solo al buio senza l'aiuto dello stregone né di nessun altro fu molto importante per il signor beckins mentre puliva la spada sull'erba e riponeva nel fodero si sentì una persona diversa molto più fiera e audace nonostante lo stomaco vuoto voglio darti un nome disse alla spada ti chiamerò pungolo dopodiché si accinse a partire in esplorazione la foresta era cupa e silenziosa e la prima cosa da fare era ovviamente cercare i suoi amici che non dovevano essere molto lontani a meno che non fossero stati fatti prigionieri dagli elfi o da esseri peggiori bilbo sentiva che non era il caso di gridare e rimase fermo a lungo domandandosi in che direzione fosse il sentiero in che direzione dovesse intanto avviarsi per cercare i nani perché non abbiamo seguito gli avvertimenti di beorn e di gandalf si lamentò ci siamo messi in un brutto guaio ci siamo vorrei tanto poter dire ancora ci siamo è terribile essere tutto solo non gli restava che provare a indovinare la direzione da cui erano provenute le grida d'aiuto e per pura fortuna era proprio nato con la camicia la indovinò più o meno come vedrete avendo preso la sua decisione strisciò via più fortivamente possibile come vi ho detto gli hobbit sono molto bravi a non far rumore soprattutto nei boschi prima di avviarsi tra l'altro bilbo si era infilato l'anello per questo i ragni non lo videro né lo udirono arrivare era infatti avanzato per un po' con somma cautela quando la sua attenzione fu attratta da una chiazza di ombra fitta e nera davanti a lui nera perfino per quella foresta come un residuo di notte che non si fosse sciolto mentre si avvicinava vide che la chiazza era prodotta da ragnatele che si sovrapponevano e si intersecavano per ogni dove e vide ragni enormi e orribili accoccolati sui rami sopra di lui e anello o non anello tremò per la paura che potessero scoprirlo nascosto dietro un albero ne osservò un gruppo per un po' poi nel silenzio nella quiete del bosco si rese conto che quelle creature ripugnanti stavano parlando fra loro le loro voci erano una specie di stridio ma molte delle parole che dicevano riusciva a capirle parlavano dei nani a capirle